...americano a Saint-Denis a Parigi lunedì sera 48 e 24 miglior tempo al mondo in questa stagione dunque dalla terza alla sesta torsia i migliori stavolta tutto regolare Fabrizio Mori è il quarto al mondo quest'anno all'esterno c'è Saber ed ecco qui sull'interno partenza in torsia 4 già importante per Brian Bronson partono solitamente più lentamente sia Loran Ohtoz mentre si è fermato Torrens Zellner in corsia 8 corsia, beh sono ben piazzati sia Mori che Ohtoz mentre Brian Bronson sembra avere una marcia in più eccolo Bronson, Brian Bronson, Stati Uniti due corsie più in là c'è Mori all'interno attenzione a Maschenko in corsia 3 anche a Stefano Diaganama sembra rimontare Mori, attenzione a Mori bella la sua rimonta su Brian Bronson Brian Bronson in grande spinta Mori che va a vincere attenzione al risultato 48 e 34 e siamo a un centesimo un centesimo dal record italiano stava per pronunciare il telecronista record italiano grandissima gara di Fabrizio Mori potrebbe anche essere il record italiano non è guagliato perché come... ... ...